Ragazzi a voi è arrivato, a me niente ancora Ah qua qua, ho preso delle fettucce, si per me grazie Ho preso le fettuccine Guardate ragazzi Ma chiedo scusa Ma sono le fettuccine di nonna Pina? No, sono le fettuccine di nonno Peppone Le fettuccine di nonno Peppone se le può mangiare è solo un coglione Le fettuccine di nonna Pina ce li mangiamo ogni mattina A colazione, pagate il latte, mi creda che le fettuccine di nonno Grazie, penso ti vorranno più a lavorare qua Ti ricordo che Grazia lavora qua O Peppone, buona scena e non mi faccio un bidone Grazie Grazie, grazie Sono gentili però qua, stanno al tuo gioco Ma io sto parlando seriamente Musaggio, però loro ti Guarda qua c'è il signore della giacca Salve, salve Ah mo c'è il signore della giacca Vabbè buona cena Buona cena All'olio dov'è? Guardate che piatti ragazzi